Presidente, a proposito di sfide, una già vinta, parliamo della regione Campania, a 5 stelle e 5 cerchi, il luglio del 2019. Non diciamo 5 stelle, diciamo 5 cerchi. A 5 cerchi. Le stelle sono diventate un elemento equivoco in questo paese. Parliamo di questo luglio 19, molto importante, insomma, le universiari, ma non solo. Questa è una cosa bella, come erano belle le stelle di Leopardi, che diceva, va che stelle dell'orsa, io non crede a tornare ancora per uso a contemplare. Grande, grande poesia. Poi ci sono diventate stelle di latta. Battisti. Battisti. Devo dire che se dovesse ripercorrere la mia galleria dei personaggi più sgradevoli che ho incontrato, o di cui ho preso conoscenza, credo che sicuramente questo Battisti sarebbe nei primi 5 posti, diciamo. Poi è una vita abbastanza lunga, quindi l'elenco è lungo. Ma fra i personaggi sgradevoli, irritanti, questo è sicuramente fra i primi 5. Con quel sorrisino sulla faccia, la pirla, è insopportabile. Ovviamente dietro quella faccia e quel sorriso, quel ghigno beffardo che continua a riproporre, poi ci sono i morti. E questo signore che ride e brinda non ha avuto neanche la decenza umana di esprimere la propria vergogna. Ho sentito un'intervista, dice, ma allora venivamo freschi freschi dalla rivoluzione a Cuba, i castristi, i barbudos. Questo modo miserabile, infame, di trovare ancora giustificazione. C'era chi trovava più comodo per ragioni di gratificazione personale, sparare, fare il rivoluzionario da quattro sorti. Ecco, tutti quei rivoluzionari di allora li ritroviamo nelle vesti di miserabili, di poveri individui, piccoli personaggi squalli. Allora mi auguro che possa essere riportato in Italia questo signore, con il suo calice in mano, ma in galera. Entro giovedì prossimo, credo, il presidente della Catalogna dovrà in qualche modo uscire dall'ambiguità. Insomma, gli è stato dato un ultimato. Ebbè, era ora. Vediamo che cosa risponde quello con la zazzera davanti alla fronte. Anche questo, un altro rivoluzionario. Un altro rivoluzionario alla camomilla, alla gassosa, non lo so. Era partito per fare la rivoluzione, indipendenza. Firmato il decreto indipendenza, però un minuto dopo lo ha sospeso. E deciditi, fai una cosa chiara nella tua vita. Questo è un altro piccolo soggetto. Nella storia a volte anche elementi insignificanti. Possono determinare tragedie vere e grandi. È diventato davvero un grande cabaret, un grande circo equestre questa vicenda dell'autonomia della Catalogna. È una cosa ridicola. Siamo passati veramente alle farse. C'è un cialtro. Un cialtro. Ovviamente nessun sistema elettorale perfetto garantisce al 100% tutto. Ma sicuramente garantisce un livello minimo di governabilità, di rappresentanza popolare, ma anche di semplificazione della vita democratica. In Italia stiamo andando verso un periodo che ci regalerà lunghe trattative, lunghe riunioni interpartitiche, perché oggi nessuno è in grado di governare da solo. Macron credo che governi la Francia avendo avuto il 26% dei voti. Poi al ballottaggio ha avuto il 60% quello che ha avuto, ma al primo turno ha avuto il 26%. O se è successo in Italia avrebbero gridato al golpe, al golpe, il fascistellum, come stanno dicendo. Avrei preferito sinceramente un altro sistema elettorale. Ma per fare l'altro sistema elettorale ci vogliono i voti che non c'erano. E dunque beccatevi il rosatellum. Lei avrà saputo di questo nuovo passatempo a Salerno, di danneggiare le auto in sosta? Sì, ho saputo e ovviamente sono indignato. Però è meno complicato prendere il parcheggiatore abusivo che sta dietro la questura a 50 metri, dietro la prefettura, e c'è uno che continua a fare con comportamenti intimidatori il parcheggiatore abusivo. Lei pensa che sia impossibile per uno Stato serio eliminare uno che fa il parcheggiatore e minaccia la gente a 50 metri dalla questura? Per quello che mi riguarda, o se ne va il parcheggiatore o bisogna chiedere che se ne vada il prefetto. Perché non è più tollerabile. Non è più tollerabile. Penso che le forze dell'ordine possano avere tutti gli strumenti per verificare che siamo di fronte a un estorsore che sta lì, prende servizio, ripeto, a 50 metri dalla questura alla prefettura. Per me è intollerabile. È intollerabile. E dunque rinnovo il mio appello a che le forze dell'ordine diano un cenno di esistenza. Se no, chiudiamole le città. E andiamocene in ferie tutti quanti. E consegniamole direttamente nelle mani dei delinquenti. Mi perdonerà questo piccolo sfogo, ma dopo anni di sollecitazioni penso che sia arrivato il momento di tirare delle somme. Le ripeto, a 50 metri da quest'ordine, non è possibile. Non è possibile. E non mi si dica che... Non ha niente. È un nulla tenente. Non ha niente da perdere. Quando uno fa estorsione, va in galera. Se si organizza un servizio come Dio comanda. Eh. Speriamo che qualche anima buona raccolga questo grido di dolore. Abbiamo altre realtà urbane della regione Campania dove il problema neanche se lo pongono, per la verità. I parcheggiatori abusivi sono diventati un elemento di folklore. Fanno parte del paesaggio. Grazie. Aplausos. 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 Grazie.